Il Gruppo Ferrovie dello Stato lancia una gara da rete ferroviaria per nuove tecnologie sulla linea Foggia-Bari dal valore di 67 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Il servizio. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha bandito una gara da 67 milioni di euro, finanziata anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico sulla linea Foggia-Bari-Parco Nord. Si tratta di un apparato centrale, computerizzato, multistazione, spiega la società. Una cabina di regia che grazie alle tecnologie di ultima generazione e il potenziamento infrastrutturale rende più affidabile l'infrastruttura, incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni. In caso di guasti, infatti, riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i mezzi, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Sono previsti benefici anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura, grazie a sistemi informatici di diagnostica predittiva che riducono l'insorgenza di avarie improvvise. L'apparato gestisce una linea o un nodo ferroviario da un centro dove sono concentrati tutti gli operatori della circolazione, da dove è possibile impartire e ricevere comandi e controlli sicuri a tutti gli impianti controllati, come se si fosse nella postazione locale.